A Cortina, anche le autovetture hanno voluto la loro sfilata e il rispettivo concorso internazionale di eleganza abbinato al festival della moda. Le macchine, già classificate in vari gruppi, man mano che sfilano riportano dalla giuria una votazione secondo ognuna delle caratteristiche, come eleganza di linea, armonia di colori, finitura, eccetera. Nelle foriserie fa bella mostra di sé una gran luce di marca estera. In quelle con carrozzerie di serie trasformabili sono in lizza l'Alfa Romeo 1.9 e la Giulietta Spyder. Presente anche l'abbia seconda serie carrozzeria speciale e una 600 foriserie. Per chiudere, un bel sorriso dedicato a questa sontuosa berlina d'oltreatlantico.